Spampinato, responsabile dell'osservatorio ossigeno, quali sono le iniziative principali portate avanti dal vostro osservatorio? Noi cerchiamo di documentare una situazione che è sotto gli occhi di tutti in Italia, di cui nessuno parla, che è sottovalutata, è quella dei metodi di censura che vengono adottati in Italia con l'uso della violenza, quindi con minacce, intimidazioni, aggressioni, danneggiamenti, che è una pratica molto diffusa, e anche delle censure di fatto che vengono realizzate con l'abuso di strumenti giudiziari che sono stati creati per altri fini, non per fare passare le prepotenze, ma per fare vivere il diritto che hanno i cittadini che quando si parla di loro sia fatta salva la loro reputazione e i loro diritti all'immagine e alla privatezza. Ecco, purtroppo anche in questo campo in Italia ci sono molti abusi perché ci sono dei buchi nella legislazione. Abbiamo la legge sulla stampa del 1948, che è una legge molto datata, che quando fu fatta doveva obbedire anche a risolvere anche delle preoccupazioni che c'erano allora, che dopo un periodo in cui la libertà di stampa era stata completamente chiusa dalla dittatura fascista, che con l'apertura alla libertà si potessero commettere degli abusi. Ecco, e quindi fu previsto addirittura il carcere per i giornalisti. Ecco, queste sono delle norme assolutamente anacronistiche che andrebbero aggiornate. In materia di querela per diffamazione e risarcimento dei danni c'è proprio un vuoto nella nostra legislazione, perché è giusto che un giornalista risponda di quello che fa, perché se bisogna parlare dei fatti che coinvolgono le persone quando hanno un interesse generale, non per soddisfare una curiosità di qualcuno. Ecco, e bisogna farlo sempre con il rispetto per le persone e in buona fede. Quindi quando una persona si ritiene lesa nei suoi diritti è giusto che li faccia valere e si rivolga anche al giudice. Quello che succede è questo, che basta una qualsiasi richiesta, basta che una persona si trovi di fronte ad una notizia che è a lui sgradita e che per lui è una diffamazione, una lesione dei suoi interessi perché si accenda un procedimento giudiziario. Ecco, questo noi pensiamo che ci dovrebbe essere un filtro, una valutazione preventiva, perché tante volte queste richieste alla magistratura sono strumentali, sono pretestuose, sono uno dei metodi per bloccare le inchieste. Ecco, domani ad esempio facciamo un convegno a Milano che è proprio su questo argomento. Quindi, dicevo, questo è uno degli aspetti. Quando noi abbiamo cominciato ad occuparci di queste cose nessuno badava a quello che succedeva e noi ci siamo arrivati, insomma questo osservatorio è andato da una mia idea, perché io sono il fratello di un giornalista che è stato ucciso nel 1972 in Sicilia, perché lui aveva tirato fuori delle notizie che erano delle notizie di cronaca giudiziaria molto importanti, che gli altri giornalisti non pubblicavano. Ecco, questo c'era stato un omicidio molto efferato a Ragusa e le indagini erano cominciate e tutti dicevano che le indagini vanno in tutte le direzioni, non si sa. E invece c'era un sospettato eccellente che era il figlio del presidente del tribunale della città. E quindi i giornalisti avevano timore a suscitare anche le reazioni del magistrato e quindi molti preferivano non darla a queste notizie. Ecco, mio fratello invece ritenne è necessario informare l'opinione pubblica che c'era questa situazione, cioè che la magistratura in realtà doveva indagare su se stessa e quindi sarebbe stato necessario trasferire l'inchiesta in un'altra città, eccetera. Ecco, dietro questo omicidio poi c'erano tutta una serie di movimenti eversivi, quindi era una notizia che aveva un suo valore. E mio fratello si trovò da solo, si trovò a dare questa notizia, lui scriveva per il giornale L'Ora di Palermo e gli altri giornalisti continuavano a non scrivere nulla, lui continuava a chiedere perché non si trasferisce l'inchiesta da un'altra parte, eccetera. Insomma, ci furono degli sviluppi e alla fine questo sospettato uccise mio fratello. E sarebbero dovute intervenire il Consiglio Superiore della Magistratura, la società civile, la politica, non intervenne nessuno. Allora, io recentemente ho ricostruito questa storia, perché è una storia di tanti anni fa, io nel frattempo sono diventato un giornalista e quindi l'ho, allora avevo 22 anni, era uno studente di ingegneria e quindi non avevo una capacità di analisi giornalistica della vicenda. Quando l'ho fatta adesso, dopo 35 anni di vestiere nel giornalismo, ho visto che c'erano molti aspetti che riportavano a vicende attuali, in particolare le minacce a Saviano, a Lirio Abbate, a Rosario Capacchione e tanti altri. Allora ho capito che quel meccanismo è un meccanismo che era ancora attuale, che funzionava ancora e che era lo stesso meccanismo che aveva stritolato mio fratello e quindi ho detto ci vorrebbe un osservatorio, ci vorrebbe un intervento anche del sindacato e dei giornalisti, dell'ordine dei giornalisti e quindi abbiamo fondato questo osservatorio che è promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa e dell'ordine nazionale dei giornalisti. Noi abbiamo pubblicato, pubblichiamo un rapporto annuale, ne abbiamo pubblicati due perché noi cerchiamo di fare capire che esiste questo problema e per farlo capire di fronte all'indifferenza generale noi abbiamo ritenuto che il modo migliore sia quello di documentare quello che succede e quindi noi abbiamo cominciato a raccogliere i casi che si sono verificati di minacce, di intimidazione. Nel primo rapporto ne abbiamo contati nel triennio 2006-2008 ne abbiamo contati 61, alcuni di questi casi riguardano intere redazioni e quindi i giornalisti coinvolti erano 200. Poi abbiamo pubblicato qualche mese fa il secondo rapporto che si riferisce al 2009-2010 e lì abbiamo visto che il fenomeno si va estendendo e i giornalisti coinvolti in questo bienio risultano 400 secondo noi. I casi documentati con nomi, cognomi, fatti sono 78 di cui 54 riguardano singole persone, singoli giornalisti e 24 sono denunce collettive. Quindi insomma adesso il fenomeno è sotto gli occhi di tutti, però ancora non entra nell'agenda politica, non entra come noi vorremmo anche nell'agenda del sindacato, dell'ordine, perché questo è un problema che ha dei riflessi anche nell'attività sindacale e anche nella deontologia professionale, perché bisogna dire chiaramente se il compito di un giornalista è quello di dare le notizie anche quando sono sgradite a un personaggio potente, se è un giornalista che si autocensura per evitare una notizia che gli può creare qualche problema, se fa veramente il suo mestiere. Ecco, insomma noi vogliamo che si sviluppi questa riflessione all'interno della categoria dei giornalisti. Insomma noi siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, anche della rispondenza che ha il nostro lavoro, perché noi troviamo in tutta Italia che ci viene riconosciuto il ruolo di punto di riferimento per queste vicende. Ecco, una delle cose che siamo riusciti a fare capire è che questi fenomeni, ad esempio delle minacce, non riguardano solo le regioni meridionali dove c'è la mafia, la camorra, insediata, l'andrangheta. Sì, lì è vero, insomma, questi fenomeni, ci sono i dati del rapporto che lo dicono, è molto presente, è un problema molto serio, però purtroppo ormai questo è un fenomeno diffuso in tutta Italia, perché noi abbiamo contato con l'ultimo rapporto 16 casi nel Lazio, 9 casi in Lombardia, 2 di quelli del rapporto sono nel Veneto. Ecco, sono tutti casi, non tutti paragonabili per gravità, perché insomma ci sono dei giornalisti che sono stati minacciati di morte e che vivono sotto scorta, ce ne sono altri che si vedono ostacolati nel loro lavoro perché ci hanno pendente una causa per risarcimento che se fossero condannati non potrebbero pagare neanche con tutti i loro averi. Ecco, noi diciamo che c'è questo problema in Italia, l'Italia non è quel posto tranquillo della libertà di stampa che tutti immaginano che sia e non lo diciamo solo noi, ci sono dei grandi osservatori internazionali indipendenti, cioè il più importante è Freedom House che l'anno scorso ha pubblicato un rapporto in cui esaminando la situazione dell'Italia che è caratterizzata dalla presenza di Berlusconi sia nella politica sia nella proprietà dei media, quindi il conflitto di interessi, la concentrazione delle testate e anche citano loro espressamente questa situazione delle minacce, degli ostacoli al lavoro dei giornalisti, ecco per questa situazione loro hanno declassato l'Italia, l'Italia non risulta più nell'elenco dei paesi in cui l'informazione è completamente libera, è un paese in cui l'informazione è parzialmente libera. C'è una discresia da questo punto di vista perché ci sono alcuni paesi non democratici o non pienamente democratici nei quali però la libertà di stampa sembra maggiore, mentre noi che dovremmo essere una democrazia piena invece con la libertà di stampa abbiamo questi problemi, da dove può nascere secondo lei questa sorta di conflitto? Il problema è che noi abbiamo delle carte, la Costituzione in primo luogo, delle leggi che garantiscono pienamente la libertà di informazione, il diritto di cronaca, poi c'è una prassi nello svolgimento dell'attività giornalistica che si scontra con degli ostacoli che sono oggettivi e poi ci sono delle altre leggi pure che si sovrappongono a quelle che affermano i principi. Allora noi ad esempio pensiamo che in Italia, l'Italia è la pecora nera in Europa per queste cose, però anche in altri paesi dove formalmente, dichiaratamente la libertà di stampa è affermata ci sono questi ostacoli, noi pensiamo che siccome il diritto all'informazione, il diritto dei cittadini di essere informati, il diritto dei giornalisti di svolgere liberamente il lavoro di raccogliere le informazioni e di pubblicarle, sono delle affermazioni di principio che vengono contrastate sistematicamente, allora noi pensiamo che bisognerebbe cominciare a difendere questi diritti queste libertà in modo più attivo. Allora noi adesso ad esempio stiamo riflettendo anche sul piano giuridico e sul piano normativo, noi abbiamo lanciato alcune proposte su cui si è aperto un dibattito, allora una delle proposte che noi abbiamo lanciato è quella di riconoscere una aggravante specifica a tutti quei reati che sono già configurati come tali minacce, ingiurie, percose, danneggiamenti, quando sono commessi con lo scopo di ostacolare l'informazione e poi noi pensiamo, bisogna riflettere anche se non sia il caso di introdurre nel nostro codice un illecito civile di ostacolo all'informazione, perché se l'informazione è come una infrastruttura sociale della democrazia bisogna difenderla, chi la ostacola interrompe un pubblico servizio.